Fine settimana di screening sulla popolazione scolastica in diversi comuni tra il Vallo di Diano e il Tanagro. I sindaci che hanno tenuto sospesa la didattica in presenza prevedendo il rientro tra i banchi oggi hanno fatto un'indagine per capire la situazione epidemiologica. Sono stati fatti a Caggiano, San Pietro al Tanagro, Sanse e Sassano. Ovunque, dati risultati non preoccupanti, è stato confermato il rientro. A Caggiano, su 208 tamponi nasofaringei antigenici effettuati, solo due sono risultati positivi e sono completamente asintomatici, dicono dal Comune, ringraziando i paramedici, la farmacista e i volontari della Gopi Ampas che si sono messi a disposizione della collettività con professionalità e competenza. Il corpo docente e non docente per l'adesione, i genitori per il grande senso civico, i bambini e i ragazzi che concludono con grande coraggio e responsabilità si sono sottoposti al tampone per il bene della nostra comunità. Anche a Sanse, stamattina, è suonata regolarmente la campanella. Su circa 160 tamponi effettuati, ben 17 sono risultati positivi e la maggior parte non presenta alcun sintomo. La scelta della DAD per la scorsa settimana, afferma il sindaco Vittore Esposito, ha consentito di bloccare la diffusione del virus tra gli alunni. Anche qui ringraziano le famiglie per la puntualità e la collaborazione, i volontari della protezione civile del gruppo Lucano e la Polizia Municipale, i ragazzi del servizio civile che hanno curato nel dettaglio tutta l'organizzazione. È un ringraziamento speciale all'infermiera Teresa Donofrio che in modo volontario si è aggiunta al gruppo di lavoro. Poi il primo cittadino annuncia che per la prossima settimana un'intera giornata di vaccinazione è dedicata ai cittadini di Sansa. Prime, seconda e terze dosi saranno inoculate presso il centro vaccinale di Caiazzano a Sassano. Sette casi positivi e il bilancio della campagna di screening organizzata a Sassano e ripresa quindi regolarmente oggi le attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Il servizio di mensa scolastica sarà invece riattivato lunedì 24 gennaio. Prima di far ritornare in classe i nostri scolari ho voluto fortemente, dichiara il sindaco Domenico Rubino, lo screening assumendomi personalmente ogni tipo di responsabilità. A San Pietro Altanagro sono due i bambini risultati positivi. Non frequentavano la scuola dell'infanzia da dicembre di Cono dal Comune che ha organizzato lo screening oltre che sui bambini anche su tutto il personale scolastico compreso gli addetti al servizio mensa e al trasporto scolastico. Ha aderito all'iniziativa l'80% degli aventi diritto. Tornati dunque tra i banchi oggi, da domani invece prosegue anche il servizio mensa. Il sindaco Domenico Quaranta ringrazia tutti coloro che hanno reso l'espletamento delle operazioni ordinato ed efficiente e la Proloco che ha distribuito un piccolo omaggio ai piccoli rendendo il momento meno gravoso. Sono tornati in classe oggi anche i bambini e i ragazzi dell'area Seletanagro dove i sindaci della comunità montana hanno condiviso all'unanimità la necessità di riaprire le scuole allo stesso tempo, di riunirsi con cadenza settimanale per monitorare costantemente la situazione e prendere decisioni tempestive utili a salvaguardare la salute dei cittadini. Grazie a tutti.